I lavori del futuro. Si parla molto spesso di come il mondo e la società odierna siano in continuo cambiamento ed evoluzione e così anche il mondo del lavoro risulta essere pieno zeppo di nuove figure professionali che soddisfano nuove esigenze e necessità, soprattutto dal rapporto sempre più stretto tra settore informatico ed economico. Vengono a crearsi nuove tipologie di impiego. Alcuni esempi potrebbero essere l'esperto di blockchain che si può definire come un notaio online poiché è colui che controlla che ogni transazione nella blockchain avvenga correttamente. La blockchain ha un registro di contabilità condiviso e immutabile e dunque molto sicuro che facilita la registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale. Il programmatic manager è una figura nuova nata in questi ultimi anni con l'espansione delle nuove tecnologie e delle piattaforme di pubblicità in tempo reale. Il cyber security è l'esperto che si occupa di sicurezza informatica. Inoltre con l'avvento dei social risulta essere molto richiesto l'esperto di date scientist che significa scienza dei dati, cioè l'insieme delle tecniche finalizzate all'interpretazione dei dati attraverso l'intervento di un esperto. Il date scientist ha la funzione di raccogliere e successivamente vendere alle aziende interessate i dati degli utenti, mentre questi ultimi trascorrono il tempo sulle piattaforme. Proprio per tale motivazione la logica che regola tutti i social, soprattutto Instagram, è quella di far passare all'utente più tempo possibile su quella piattaforma ed è per la stessa motivazione che i social creano un legame diretto tra gli utenti. Se abbiamo una connessione diretta con altre persone saranno molte di più le informazioni che rilasceremo e aumenterà il tempo trascorso sui social. Ciò accade con i social, ma non solo. Tutti quei siti come Trivago o Facile.it, cioè tutte quelle piattaforme gratuite che ti danno la possibilità di confrontare i prezzi e determinare, secondo le tue esigenze, hotel e assicurazione migliore per te. Hanno bisogno del date scientist, che ha la funzione di raccogliere tutti i dati che noi lasciamo gratuitamente sulla piattaforma, di venderle alle aziende che ne hanno bisogno per capire su cosa è meglio investire. Addirittura Amazon vende i dati che non li regaliamo quasi quotidianamente. Diversamente da quanto ci aspetteremo, Amazon guadagna di più dalla vendita di questi dati rispetto alla vendita dei prodotti che noi acquistiamo. Non è assurdo. Interessante è anche la figura del futurologo. Il futurologo si occupa di futurologia, termine con cui si indica un tipo di indagine che ha per lo scopo la previsione degli sviluppi futuri della tecnologia e conseguentemente dei modi di vita, degli assetti sociali, dei costumi. Quindi il futurologo in poche parole aiuta le aziende a comprendere quali saranno le tendenze, i cambiamenti o gli stravolgimenti che attraverseranno la società del futuro. Questi sono solo alcuni dei lavori che si pensa diventeranno, se non lo sono già, fondamentali e molto richiesti in futuro e che potrebbero sostituire alcune figure professionali. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori.